buon pomeriggio ragazzi scusate se oggi è martedì ma non avevo nessun altro video da fare mi completo sonic se ci riuscirò così me lo levo e volevo farlo con voi ma devo finirlo così me lo levo e ho più spazio no che già sono a 25 gb di memoria il massimo è 32 di memoria non parliamo di questo parliamo del settimo episodio di sonic buona visione raga non c'è più quell'immagine ragazzi niente è cambiato ma era bello dunque a vero devo staccare internet primendi non prende ecco però se non altro ciao 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 Giochiamo! Vediamo se mi ricordo come si gioca eh raga Non è tanto facile A presto! A presto! A presto! A presto! Go get in... A presto! Grazie a tutti. 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 Mi sono spaventato, signore Eggman. Di quei cose la paghi. Di niente. Niente, ragazzi. Grazie a tutti. Andiamo, ragazzi. Facciamo tutti i posti. Ma il video l'ho trovato. Ecco, ecco. Niente. 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 Andiamo, ragazzi. e, grazie a tutti. e, grazie a tutti. E, grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e, 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 grazie a tutti.